Allora, al solito benvenuti, eccoci alla seconda ripresa della seconda lezione che abbiamo fatto sulle particelle qualche settimana fa vedete che adesso vediamo invece delle particelle di un tipo speciale queste particelle sono particelle uniche, invece di avere migliaia di particelle ne abbiamo tendenzialmente solo una quindi vediamo una particella come è fatta, vedete che le particelle sono fondamentalmente bidimensionali a seconda di come mi muovo attorno alle particelle, le particelle mi si mostrano sempre verso di me quindi questo qui è un modo anche interessante per fare dei cartelloni che presentino delle segnalazioni grandi a piacere vi ho detto che questa essendo una particella può essere grande fino a 4 metri quindi c'è lo script corrispondente dentro un oggetto trasparente questo script imposta questa particella con tutti i parametri che abbiamo visto l'altra volta qui la novità è che invece di usare i sistemi pattern angle eccetera usiamo pattern drop che sgancia la particella in un posto e poi possiamo modificare tutti gli altri effetti in particolare a noi ci interessa vedere questa è una particella 2x2 2 metri per 2 notate che qui gli ho commentato, cioè gli ho messo queste barrette e barrette alla parte che interpolava il colore, che interpolava la scala quindi non cambino né di colore né di dimensioni e però gli mettiamo la dimensione iniziale che ad esempio è la massima possibile quindi qui abbiamo 4, mettendo 4 le particelle generate diventano il più grandi possibile ecco questo è il massimo dimensione del cartellone che può essere generato vedete che man mano che aumento quindi questo è un cartellone 4x4 che è già discreto quello che succede è che questo cartellone è una particella abbiamo detto che le particelle sono temporanee durano tipo 30 secondi, 10 secondi, insomma quello che è la cosa interessante è che quando scade il suo tempo di vita deve essercene un'altra che la rimpiazzi altrimenti si vedrà che sparisce quindi noi, ecco vedete che è sparita adesso perché è sparita la... perché la particella, in realtà questa particella qua non durerà tantissimo vediamo che la partage, che è questa, dura 5 secondi se noi diciamo che durano ad esempio 20 secondi o anche 30 che è uno dei massimi qui diminuiamo e rendiamo quasi impossibile che la particella sparisca perché quando sparirà ci sarà un'altra che l'avrà ricoperta e quindi questa rimarrà persistente questo è un modo, ripeto, per vedere queste cose nella lezione abbiamo visto una cosa molto interessante e cioè, beh innanzitutto questa particella è solo una cosa rispetto alla lezione che è diversa e che abbiamo messo anche una texture quindi praticamente nel nostro, quindi controllo al T per vederci l'oggetto che scatena questa cosa che in realtà si vede poco quindi dobbiamo cercarlo per l'approssimazione successiva eccolo quindi questo oggetto nello script gli abbiamo messo a un certo punto string texture, la riga 17 dove c'è un UIT di un oggetto nel nostro inventario allora io in questo caso in questo momento sono andato nel mio inventario ho cercato una texture per esempio questa per dire no texture che è questo asso di bastoni se faccio tasto destro posso fare copia UID dell'oggetto e a questo punto la seleziono questo faccio CTRL V e facendo salva CTRL ALT T vedrete che lui pubblicherà un'altra immagine adesso ci sono ancora le particelle vecchie ma fra 30 secondi ci sarà soltanto la nuova immagine quindi questa tecnica di mettere texture qua in questo script permette di modificare e mettere un'altra immagine diversa da quella che ho messo prima se ci metto una texture che non esiste tornano quelle immagini che abbiamo visto prima cioè quelle specie di particelle elementari ora quello che abbiamo visto a lezione molto interessante era come riuscire anche voi a produrre una rosa ad esempio di questo tipo cioè un oggetto che sembra una rosa vera o comunque un oggetto che sembra vero ritagliato, trasparente quindi dobbiamo capire come generare delle immagini trasparenti quindi vi faccio vedere brevemente ad esempio cercando la rosa cioè se io cerco rosa mi compaiono delle immagini della rosa e queste immagini della rosa possono essere o già trasparenti quindi io posso anche cercare rosa trasparente per dire no se io cerco rosa trasparente me ne arrivano di già trasparenti vedete che si vede che sono trasparenti perché ci sono questi reticoli tipo scacchiera prendiamo questa rosa supponiamo di voler usare questa rosa quindi facciamo la visualizzazione dell'immagine ci salviamo l'immagine e ce la salviamo in un direttorio una cartella nostra rosa rosada a quel punto lì andiamo nel nostro imprudence che è questo facciamo CTRL U per farlo upload e ci prendiamo rosa rosada vedete che qui si vede ancora meglio che è trasparente la carichiamo perfetto a questo punto ce la troviamo nel nostro inventario oppure anche qua però dobbiamo vederla nel nostro inventario perché abbiamo bisogno di conoscere la sua le sue ID quindi rosa rosada la clicco tasto destro copia UID dell'oggetto e poi vado sullo script il solito script generatore particelle vado alla riga 17 e al suo posto qui ci metto ci metto l'ID questo ID qua fatto così e in questo modo tra 30 secondi vedete che si converte e diventa la nuova rosa che ho preso da internet quindi questo è il modo che avevo promesso che permette di vedete che si vede anche la trasparenza perché in realtà era trasparente anche la rosa dipende dall'immagine però comunque l'effetto è anche abbastanza interessante quindi in questo modo si possono fare diversi effetti no? cioè si possono usare gli effetti e si può fare anche su non soltanto rose ma ad esempio posso cercare ad esempio dei disegni di bambini tipo casa immagine e cerchiamo ad esempio una qualunque cosa fatta anche magari casa trasparente ecco se poi non le trovate trasparenti potete anche farvela voi con Gimp o altri o altri insomma sistemi no? però dunque casa trasparente abbiamo detto disegno disegno vediamo un po' se la troviamo delle case trasparenti questo qui non è trasparente però prima l'avevo trovata quindi magari facciamo house vediamo un po' in inglese ecco prendiamo delle clip art ecco nelle clip art è facile che ci siano delle cose trasparenti ad esempio questa è un'immagine vedete che c'è i quadratini è abbastanza trasparente quindi prendiamo questa immagine la salviamo quindi facciamo save image as al solito torniamo nel nostro imprudence facciamo ctrl u e prendiamo la nostra casa trasparente questa vedete che si vede che è trasparente la carichiamo ok e poi prendiamo la qui dobbiamo trovare la parte centrale qui dobbiamo selezionare proprio dove c'era eccola qua quindi facciamo modifica e poi duplichiamo questo oggetto che adesso proietta abbiamo visto la rosa e però noi selezionando lo script nello script gli dobbiamo mettere qui cerchiamo la uid coppia uid dell'oggetto e qui la rega 17 gli mettiamo l'uid della casa trasparente avendo fatto in questo modo tra una vedete che adesso adesso si miscerano perché sono ancora le particelle vecchie però qui ho diciamo la il disegno quindi questo è anche un altro modo molto interessante per visualizzare dentro il mondo diciamo delle cose dei vostri ragazzi dei vostri ragazzini vedete che spostando ecco il nuovo posto compariranno soltanto più le particelle che sono la casa ora a lezione ho visto comunque anche alcuni effetti speciali che si possono fare con queste immagini trasparenti che non sono soltanto quelle di farle vedere messe lì però le immagini possono anche muoversi ad esempio abbiamo visto che è la rosa quindi magari facciamo dunque la teniamo o qualunque immagine duplichiamo questa rosa qua la mettiamo magari un po' più in su ok vedete che rimangono le vecchie particelle che tra un po' andranno poi a morire ecco possiamo fare in modo tale che queste particelle invece si muovano quindi per farle muovere semplicemente si può aggiungere ho un push mi ha visto vedete che il push se io gli metto push 1 ad esempio vuol dire che le particelle quando vengono create gli è stata installata una velocità per cui le particelle vedete che vengono spinte nella direzione x quindi a seconda di quante particelle stavate generando vedete che qui abbiamo un part count 1 quindi quante particelle vengono generate e la frequenza con cui qui abbiamo bdelay non l'abbiamo spiegato bene la volta scorsa ma qui diciamo che ne fa 10 al secondo 0,1 la frequenza se noi gli mettiamo 1 dovrebbe farne una al secondo vediamo se è vero ecco quelle sono quelle vecchie che ha generato vedete che ne ha fatto una e poi dopo circa un secondo dovrebbe farne un'altra in teoria vediamo che non sono precisissime ne fa quando vuole lui quindi forse non funziona perfettamente col secondo mettiamo ogni due quindi dovrebbe farla ecco una ecco ecco così diciamo vedete che le generiamo a intervalli di tempo ogni due secondi circa non è precisissimo su openSIM questa cosa quindi non è affidabilissima però insomma l'idea ce l'avete ora se noi il bidelay lo possiamo anche mettere ogni due secondi e poi dirgli comunque che ogni volta invece di fare una particella ne fa dieci ad esempio quindi lui ogni volta che ha che parte che ne genera dovrebbe farne un po' di più in teoria in realtà magari sta anche facendo ma sono tutte assieme per vedere se veramente sono loro si potrebbe di nuovo lavorare sulle min speed e max speed ad esempio se qui mettiamo 0.1 dovrebbero essere generate con delle velocità iniziali leggermente diverse però forse con il drop non funziona allora per riuscire a fargli interpretare anche questa velocità bisogna cambiare anziché drop ad esempio gli possiamo mettere precis search pattern esplode esplode in realtà le particelle invece di essere messe ferme dovrebbero essere generate appunto come vedete un pochino più libere nel senso che si muovono magari le mettiamo allora bdelay torniamo al 0.1 originale che dovrebbe generare tante ecco vedete così ne genera tante che hanno varie velocità e si muovono in una certa direzione se noi il push lo mettiamo a 0 ecco quello che succede è che le rose vengono generate e poi si muovono lentamente perché gli abbiamo messo una max speed eccetera ma se la speed la lasciamo a 0 le rose dovrebbero essere lasciate ferme dove stanno quindi adesso dovremmo vederle fra un attimo quindi le rose nuove generate adesso in poi dovrebbero essere ferme quindi vedete che in questo modo si possono costruire queste credo che sono ancora le rose di prima 0 0 0 min speed max speed 0 il push era 0 ok vedete che adesso le rose sono ferme non si muovono però attenzione possiamo fare in modo tale adesso sono messe in un certo raggio raggio 1 le possiamo mettere un raggio più grande 5 quindi vengono generate entro un raggio 5 ecco a 5 circa del centro vedete quindi che generano rose messe su una sfera tendenzialmente perché questo è l'explode l'explode praticamente dispone casualmente le rose lungo una sfera se invece volessimo mettere le rose tutte su un piano dovremmo usare le altre caratteristiche che abbiamo visto quindi questo per dire fa un cespuglio cespuglio di rose circolare cesferico anzi e invece se noi facciamo pattern angle facciamo angle cone che abbiamo visto anche la volta scorsa le rose vengono messe su lungo una adesso aspettiamo i nostri soliti mezzo minuto dovremmo vedere le rose disporsi su un angolo eventualmente begin angle and end angle adesso lo studiamo un secondo aspettiamo che muoiano le rose vecchie e vediamo le rose nuove dove le mette ecco stanno morendo ok le ha messe tutte su quindi raggio 5 su però direi che possiamo mettere begin angle 0 possiamo fare end angle possiamo mettere pi pi greca che vuol dire no aspetta possiamo mettere pi quarti a pi quarti che vuol dire seguendo un angolo quindi lui dovrebbe generare tutte ecco lungo una circonferenza infatti si vede che sono messe lungo una circonferenza vedete quindi praticamente questa è la circonferenza alta 5 da lì ne sta facendo tante perché abbiamo messo che part count è 10 noi possiamo mettere part count 1 vediamo un po' dovrebbe venire di meno e magari mettiamo invece che pi greca quarta gli mettiamo pi e pi quindi dovrebbe venire proprio sull'equatore della particella generante no in realtà pi no pi mezzi forse pi mezzi e pi mezzi ecco con pi mezzi le mettiamo proprio sull'equatore vedete che compaiono proprio all'altezza dell'oggetto che le genera quindi vedete che giocando quindi con questi vari parametri riusciamo a ottenere vari effetti una cosa anche che a lezione non abbiamo visto molto è la possibilità anche di dirgli alla rosa di essere soggetta al vento anche in OpenSim esiste un vento nella nella Sim e quindi diciamo che è soggetto al vento quando clicchiamo in teoria vedete che le rose si muovono un pochino a seconda del vento quindi si muovono il vento è una quantità irregolare della Sim che può andare in varie direzioni e quindi trascina vedete lungo e gli impone praticamente e gli da una struttura irregolare ci sono tantissime altre opzioni una delle opzioni che non abbiamo visto ma può essere interessante è di fare in modo tale che le che le nostre target pose mask permettono di fare in modo tale che le rose vadano verso un una persona o un altro oggetto presente sulla scena però adesso per il momento non mettiamo troppo carne al fuoco se siete interessati le potete vedere poi con calma diciamo che per questo filmatino la seconda puntata dovrebbe essere tutto quindi ripeto questo vi ho insegnato quindi come si fa a prendere un'immagine da internet caricarla prendo nella UID del vostro inventory facendo tasto destro copia UID e come mettere queste informazioni dentro questo script questo generatore di script in modo tale che vengano prodotte questi questi sistemi particellari allora per oggi è tutto ci sentiamo poi la prossima in cui faremo l'ultima terza puntata che abbiamo fatto sulle particelle che erano le condizioni atmosferiche il vento il ghiaccio la nebbia e tutto il resto buonasera per adesso grazie a tutti